Fede ho una prova di coraggio per te Ok dimmi ci sto Allora vieni qua vieni qua vieni qua Ok ti devi tu fare in piscina Ma davvero? Sì Ma davvero? Vado 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 Fede dimmi Un po' hai sbattuto Un po' sbattuto infatti un po' mi so fatta male Aspettate aspettate io non voglio sbattere Per non sbattere secondo me devo fare così Ah no E ragazzi come va? Io sono Ferinichi E io sono Steppe Che sono GeekmaGTA5 E stiamo qui con un nuovissimo episodio del si può fare Con tantissime cose da provare Esattamente Lo scorso episodio vi è piaciuto parecchio Il si può fare improvvisato vi è piaciuto E ci fa piacere Questa volta li abbiamo riselezionati Giusto perché ce n'erano davvero di fantastici proposti nell'ultimo video Sì la voglia voglia Quindi li abbiamo selezionati un po' Ma prima di tutto Ferin devo un attimino riprovarci Scusami un attimo Dai no smettila È già fallito clamorosamente Non ripetere È una questione d'onore È una questione d'onore Allora ti faccio vedere cosa volevo fare io Io volevo saltare poco prima del cornicione Tipo così Per cadere perfettamente al centro della piscina Almeno adesso ci sei riuscita Purtroppo prima non ha funzionato Ok 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 Il primo si può fare di oggi secondo me è geniale Un consolino ci ha scritto Si dice che quando i gatti cadono dall'alto Cadono sempre dritti Giusto Vediamo se succede anche su GTA Che è quello che abbiamo pubblicato anche su Instagram Nella storia Perché era troppo bello Allora vado Ferre Ho un po' di paura Allora secondo me Vado dritto così Allora è schiattato Però è atterrato dritto Però è atterrato dritto Però è atterrato dritto Io volevo vederlo da qui ma ti sei lanciato troppo velocemente Quindi lo ripetono Volevo correre Ferre Allora è atterrato dritto Capisco il senso Consolino Dissimi il senso di questo aeroplano Ma se io vedo bene ha dei posti a sedere tipo lì dietro Però non sono sicuro Eh ma cosa serve a capire qualche veicolo? Non lo so Non lo so In ogni caso il si può fare era questo Vi ricordate che abbiamo provato a lanciarci a mettere il paracadute d'animale? Esatto Ecco ci avete chiesto di provare a lanciarci Mettere il paracadute d'essere umani E mentre siamo col paracadute in volo Trasformarci in un animale Per vedere se così rimane il paracadute d'animale Allora ok che abbiamo detto ai consulini di avere fantasia nelle proposte Però qua davvero si stanno superando Io te lo dico Si stanno superando A me è piaciuto subito Sì sì Allora vado? Vai Ok allora Devo essere veloce Aspetta che mi preparo l'F1 Perché altrimenti fallisco miseramente Facciamo player Ok Ok siamo pronti Ho paura Vai Ta Vai Ta Subito paracadute in modo tale che ho un sacco di tempo Ta In cosa mi trasformo? Facciamo un gatto Perdo immediatamente il paracadute e inizia a cadere Davè Eh sì ti vedo Ti vedo Aspetta L'abbiamo baggato Fere No Ma davvero? Oh mio Dio ti vedo quel gatto Guarda Come abbiamo fatto a baggarlo? Non ho idea Non ho idea Non ho idea Mi si è tolto Però dopo che ho ripremuto a sinistra me l'ha rimesso No E io l'altra volta non avevo modo di metterlo in nessun modo Cioè L'abbiamo baggato L'abbiamo baggato Però almeno così sappiamo che baggandola anche gli animali possono avere un paracadute Questo è bellissimo Un gatto su un paracadute È stato troppo emozionante e troppo bello Vabbè Scusa è qualcosa contro i gatti che vanno con le cadute Dato che le sue zampette non riescono ad attutire bene le cadute è giusto che abbia un paracadute Assolutamente Assolutamente Gatto Dai Nuota un po' Per favore non mi morire Un'altra cosa che ci avete chiesto la scorsa volta è se l'animale diciamo terrestre può comunque nuotare in acqua E beh Come vedete Secondo me Vedete che un po' nuota un po' cammina è tutto strano Ok Il discorso però è che non riesce a farlo stare in superficie come si deve Quindi diciamo che nuota ma non nuota e un po' non funziona molto bene Poi affoghi pure quindi diciamo Poi affoghi pure quindi ancora peggio Non so perché mi ricordavo che almeno il cagnolino potesse nuotare invece no Invece no 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 non è un granché non è un granché poveri animali Dovrebbe poter nuotare però evidentemente gli animali terrestri si flippa un po' Si faggano un pochettino in acqua Allora a questo punto Cosa c'è di bello Allora scegli tra un gabbiano e non ti dico cosa dovremmo fare col gabbiano Ok Oppure un'ambulanza e non ti dico cosa dobbiamo fare con l'ambulanza Il gabbiano Ok Gabbiano Ormai siamo in tema animali continuiamo così E allora mi trasformo subito e arrivo Con il gabbiano ci avete chiesto sia di farvelo vedere volare Perché in effetti non abbiamo ancora fatto vedere animali volanti È vero è vero è vero Sia di provare ad atterrare nell'acqua con un gabbiano Cosa succede in effetti non ne ho idea Magari è che abbiamo un pesce non lo so No non credo Allora Prima di tutto Steph deve capire come pilotare il gabbiano Perché non è per nulla semplice È più difficile dei poteri Allora Perché voglio atterrare piano 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 Non voglio schientarmi Sì è molto carino Il gabbiano è super fantastico È uno dei miei preferiti in assoluto Vado Fede Vado 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 Siamo vicini all'acqua Secondo me anneghiamo Ok Morto Ok Ehi Fede ti ho regalato un nuovo veicolo guarda Oh che bella grazie grazie Hai capito che cos'è Certo che ho capito Certo che ho capito No Fede sta cadendo No 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 Allora piano Piano Non cascare Allora Il passante c'è come se niente fosse Come se fosse normale che un dirigibile li cadesse in testa Oh guarda che inquadratura mi dà Fede sei salita? No Sali a bordo Scusami Fede Ti ho detto aspetta Ti ho detto aspetta Fammi salire Non posso più aspettare Fammi salire Non sono mai salita su un dirigibile Cosa vuoi? Non so guidare questo coso Lo so Però dai è come un elicottero Quindi su Guarda davanti a te Cosa vedi? Cosa? No Dobbiamo passarci in mezzo Fede No perché vuoi fare una cosa del genere? Sembra divertente Ma cerchiamo di volare e basta Non c'è bisogno di fare questa cosa Poi esplodiamo e moriamo Non ha senso dai Dobbiamo farlo Fede Andiamo Vai muoviti almeno Allora Ma ce l'ho inventato tu adesso questo Sì non ce l'ha chiesto nessuno Io non so perché non facciamo solo E si può fare che ci propongono i consolini Dobbiamo fare i tuoi che non hanno senso Guarda quanto va lento No sbattiamo per forza È certo che sbattiamo Aiuto Guarda c'è neanche una Neanche una ne ha superato Cioè io te l'ho detto Te l'ho detto Non lo fare Facciamo qualcosa di diverso Invece non mi ascolti Neanche la prima è superata Però una cosa va detta Come esplode il dirigibile Non esplode nulla È proprio figo quando esplode È bellissimo quando esplode Fere Fere Mi è voluto una cosa Se lo spariamo con dei proiettili Possiamo bucarlo Farlo esplodere O non succede nulla Proviamo Perché abbiamo provato con esplosivi Eh sì è vero Ma non abbiamo provato con proiettili O cose del genere Sono curiosissimo A te l'onore Fere Allora Con cosa voglio provare Ok Aspetta Ferma Non succede nulla Perché i buchi li vediamo anche bene Però non mi sembra che si stia sgonfiando Esatto Io inizio a sparare un po' con la K E vediamo se piano piano si sgonfia O succede qualcosa Quindi forse Allora come mi sei passato davanti Mentre stavo sparando Ho dato un colpo col calcio della pistola Vabbè 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 Non è colpa mia Torna subito Non è colpa mia Non è colpa mia Istinta addirittura Istinta Abitu Che c'è Ho fatto esplodere Senza di te No dai Me l'hai fatto perdere Però è esploso in un modo strano No Allora O lo vedi esploso normale C'è i mille pezzi classico Sì Io lo vedo in mille pezzi Io lo vedo così Ok Ascolta Fallo risponere in riprova Fallo vedere tu Che sto facendo una cosa Guarda me Porta Hai visto? Guarda cosa ho dato Cos'hai dato? Ma no Cioè dovevi usare l'altro Vabbè Mi sono fatto a prendere la mano Allora l'effetto tanto era uguale Non cambia l'arma Ok Quindi il dirigibile si può fare esplodere Anche sparando Esatto Altra cosa molto interessante Che non mi aspettavo troppo Una cosa che ci hanno proposto i consolini È di far arrivare un'ambulanza Per curare un civile Quando arrivano Mettersi davanti al cadavere con la macchina E vedere che cosa fanno i dottori Ma che cosa macabra questo da provare Eh lo so Ce l'hanno proposto Io ho pensato Dai divertente Vediamo cosa fanno Ti propongono le cose super macabra E guarda Se ne vanno Della serie Non c'è più nulla da fare Non riesco a prenderti Non me ne frega nulla Arrangiati Muori pure E ciao Vabbè Io me ne sono andato Voglio vedere se tornano indietro Adesso aspettiamo un pochettino Vediamo se tornano Dopodiché lo voglio riprovare un attimo Perché sono arrivati all'improvviso E ho avuto poco tempo Però È stato strano No allora Da quello che vedo Non stanno tornando indietro Quindi secondo me Non riescono a curarlo una volta Ce ne fregano totalmente Il mondo di GTA è un posto orribile Comunque Non ci vorrei mai vivere Guarda Potevate salvarlo Invece no Povere le persone Che vivono in questo posto È tutto strano Tutto pazzo La polizia è strana I pompieri sono strani È GTA che ci vuoi fare È GTA Un cane Un cane vero Non investire in cane No mai Allora i civili sì Gli animali no Ciao cane Ma quanto sei bello Guarda è fierissimo seduto Ciao Ascolta fai una cosa Sì dimmi Trasformati anche tu in cane No Ho la pallina Vediamo se ci gioca Com'è la pallina Sì dovrei avere una pallina Eccola Ecco guarda Non colpirla Ma è quello che magari gli fai male Vai cane No ma ti fai arrabbiato Mi scusi Volevo solo giocare Scusi eh Io pensavo che stesse correndo A prendere la pallina Mi piace che il cane è scappato Aspetta È caduto da solo Cosa sta succedendo oggi Aspetta Gli attiro in faccia Gli attiro in faccia Ora ti stai Ma cosa succede No è pazzo È pazzo Ma sta scappando da una pallina Signore Che bello Da stare qua Da aspettare Mentre arriva l'ambulanza Perché abbiamo investito Le persone Le cose di tutti i giorni Su GTA ovviamente Ascolta Sono i consolini Che ci hanno proposto Queste cose brutte Eh infatti Infatti Non è colpa nostra Per una volta Non siamo stati noi Siamo soltanto curiosi Di vedere cosa succede noi In un momento in cui Te lo propongono Cosa fai Non lo provi Cioè come fai Poi diventi il criminale Tu se non lo provi Scusa Mi sembra giusto Non proprio Mi sembra giusto Allora Io vorrei vedere Da dove arriva l'ambulanza Ok Però per adesso Sembra che non stia arrivando Eccola eccola La vedi? Sì Allora Aspettiamo che arrivi Aspettiamo che scendano E dopodiché Rischiacciamo la signorina Guarda eh Adesso l'ambulanza Fa il giro Vabbè Non poteva andare Contromano Quindi il giro Un po' più lungo Pensa se è urgente Questi qua davvero Sono inefficienti Come non so che cosa Allora Loro adesso appunto Scengono dall'ambulanza Pronti a salvare la signorina Noi ci mettiamo sopra Loro sbattono un pochettino Girano un po' intorno Adesso se ne vanno Sono molto confusi Uno se ne sta già andando E adesso anche l'altro Complimenti Complimenti Non siete per niente efficienti Guarda Cioè una macchina Vi impedisce di salvare una povera vita E tempo per l'ultimo Si può fare di oggi Allora nel primo si può fare Di questo server mordato Abbiamo provato a far esplodere Lo yacht Nel secondo video Del server mordato Abbiamo provato a far esplodere Un aereo Questa volta Proveremo a far schiantare L'aereo Nello yacht Mi sembra giusto Unire le due cose È giusto così Mi sembra giusto Eppure logico Esattamente Allora quindi Partiamo dal salire Nell'aereo Stef si appresta a partire Sta facendo iniziare A volare Questo bellissimo aereo Non sa neanche Come si guida Parte in volo Fammi rimettere Terza persona Che se no non capisco nulla Ok 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 Sono in volo Fere Sono in volo Perfetto Tra dieci minuti arriverò Più o meno Ok ottimo Ti aspetto e vedrò Ma ti vedo già Davvero? O forse un altro aereo Totalmente gigante No non eri tu Non eri tu Mi dispiace Sì 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 Non eri tu Come hai fatto a confondermi Fere? Sono l'unico inimitabile Vedevo qualcosa a volare da lontano Io ti vedo però Davvero? Sì Sì sei Ti sta già puntando drittissima Arrivo dalla zona dell'aeroporto Aspetta sì 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 Mi sa che Sì Arrivo Fere Eccoti Sei pronta? Sì assolutamente Arrivo dritto Che poi oltretutto Mentre ti stavi avvicinando C'era un rumore di aereo fuori dalla finestra Ed è stato ancora più inquietante Perché vedevo te che ti avvicinavi Il rumore da fuori È stata una cosa parecchio strana Fere Aspetta che mi sposto Ci siamo Aspetta che mi sposto Fere ci siamo Ok ok 3 2 1 Oh lo yacht è imbattibile Cioè non l'è neanche scalfitto Ma stiamo scherzando Allora io a questo punto devo dire una cosa Sarei curioso di vedere yacht contro treno Perché l'unica cosa di invincibile che ho mai visto è il treno E a quanto pare anche lo yacht lo è Arri guarda che altro posto bellissimo ho trovato Ogni tanto c'è Rinaldi si rinasce Sapevi che rischiava un faro su GTA Assolutamente no ti giuro che anch'io sto scoprendo posti di GTA che non avevo mai visto E quindi è bello Fateci sapere sempre il prossimo episodio Volete che lo esploriamo Perché sembra interessante E lo facciamo esplodere E lo facciamo esplodere Vediamo ma ti sembrano cose da dire Comunque dai in ogni caso Dì che ci possiamo fermare così per questo video Grazie mille per tutte le cose che ci avete proposto Continuate a proporci tante cose Magari prendete ispirazione Da tutte quelle che abbiamo fatto quest'oggi Che erano davvero fantastiche Speriamo che il video vi sia piaciuto E ci fermiamo così Bella che sei a dirci Lasciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao